Presidente Saracchiani, qui a New York Trieste diventa un'eccellenza mondiale del caffè grazie a Trieste Spazio Spazio. È un'opportunità che ormai si è consolidata nel tempo, che è cresciuta e che ha permesso a Trieste, città ma anche alle sue particolari eccellenze, di essere conosciuta per quanto riguarda il caffè nel mondo. Oggi siamo qui a Italy New York anche perché il mercato americano è uno dei mercati che guarda con maggiore interesse al caffè espresso.